Per il primo mè di Juni, non ti metti bene, o di una cosa di drai bibida, cucciara, cucciù, forchi e ricci. Cosa di drai bibida, cucciù, cucciù, forchi e ricci desecciabili di plastic tamalu pa nostra naturalezza. Ora, quando ti ritro il desperdicio di plastic a fondo in maniera rubes, ti ho ora e saque dei risultati come cucciù, riba caia, canto di caminda, riba beach, di la maniera e di nostra naturalezza. Plastic non è buona per nostra naturalezza, nostra salute e nostra economia. Ront il mondo, 73% di cucciù riba beach sta di plastic. Tur ha ne plastic desecciabili tamata ma sco 1.1 milioni para di la maniera e bestia di la maniera. Pa nos medioambiente in nos naturalezza, tamaz mio pa riemplaza plastic desecciabili cu produttu lang sostenibili. Alternativa, ti cava. Den fari un supermarket por hain produttu lang sostenibili. Pa basta tempo cava, un cantidat grande di restaurant e trecchi pang che traga con buona alternativa, maniera ricci sostenibili, i cucciù, cucciara e forchi che non può usare ma sbia. Di combo lo sigi usa assina tanto plastic desecciabili e pone pressione riba in nos naturalezza. Siete in buona alternativa disponibili? Semper bai come proprio cucciù, cucciara, forchi e ricci reusabili. Quanto nostre soro omboneiro liber di plastic.